ma quali sono le priorità diciamo dell'europa ma anch'io vedo un'europa latitante sul cercare di sconfiggere il cove dal livello globale è già stato detto purtroppo è vero c'è una parte del mondo che non è vaccinata in africa in alcuni paesi la vaccinazione tocca il 3 per cento quindi mentre in italia stiamo inseguendo l'ultimo di nuovi vaccinati in altre parti del mondo il problema è ben più grave e finché non risolviamo il problema sappiamo che i covi di gira le varianti nascono proprio in contesti fragili come quelli extraeuropei quindi bisogna che l'europa faccia di più al di là delle risoluzioni delle dichiarazioni che ho sentito troppe volte e questo è il problema sicuramente principale l'altro problema è stato evidenziato nel vostro servizio la sanità negata purtroppo tante energie ancora troppe sono giustamente spese per affrontare l'emergenza covid io ho un dato del veneto 270 terapie intensive sono dedicate alla all'interventi normali 205 206 sono occupati di terapie intensive da malati covid ne capite quante quanta energia è spesa per la gestione del covi quindi bisogna continuare col buon senso e con la strategia che le regioni hanno messo in campo fino ad ora guardando anche agli altri problemi veri anche il problema di tante aziende in veneto e non solo che sono state costrette a chiudere perché avevano il 70 80 per cento dei dipendenti e degli operai positivi in quarantena o in isolamento quindi sicuramente bisogna intervenire perché rischiamo di bloccare il paese in un momento in cui dobbiamo andare nel senso opposto cercare di far lavorare anche perché ha fatto bene a sottolineare questo aspetto adesso vado a matteo richetti dipendenti